Con Lorenzo Laverone nella settimana dopo il pareggio di Pescara un pareggio che magari all'inizio settimana si poteva firmare poi però c'è stato tanto rammarico. Sì siamo rimasti un po' delusi perché per come era andata la partita speravamo di portarvi ai tre punti. All'inizio prima della partita magari un pareggio era un ottimo risultato però siamo andati via un po' con la mare in bocca. E tutta la stagione che tu stringi i denti tra vari infortuni molto peggiore da quel punto di vista rispetto alla scorsa stagione come stai adesso? Sì purtroppo è dalla prima settimana di ritiro che non sto bene. Adesso meglio però insomma i problemi ci sono sempre devo gestirli e grazie anche allo staff medico che mi dà una grossa mano ogni giorno quindi riusciamo a gestirli e a portarli avanti. I tifosi a più riprese rivolgono quella a Verone dell'anno scorso anche in posizione di esterno alto. È una posizione che ti gradisci di più? Diciamo che è una posizione diversa e io adesso gioco sempre da terzino perché comunque c'è bisogno c'è bisogno dietro e magari l'anno scorso c'era più bisogno davanti quindi cerchiamo di gestire la situazione nel miglior modo possibile e per me è indifferente quindi per adesso va bene a terzino. Tu sei uno dei pochi reduci dalla passata stagione quali sono secondo te le differenze? L'anno scorso si lottava per i playoff quest'anno per la salvezza quali differenze vedi? Beh sicuramente quest'anno ci sono venuti a mancare due giocatori fondamentali e anche due o tre sia per infortuni o per squalifie o una roba del genere ci sono mancati perché comunque gente come Manfredini e Briganti sono per noi fondamentali e lo sono stati l'anno scorso e quest'anno la situazione è così ci ha girato male un po' di cose e dobbiamo reagire perché tutte le annate hanno una storia diversa. Ripartendo magari da sabato contro l'Avellino una squadra che si gioca i playoff però noi ce la giochiamo in casa al menti bisogna tornare a far punti lì? No certo era il nostro punto di forza il giocare in casa e vincere sempre in casa adesso facciamo più fatica in casa anche perché comunque non riusciamo a esprimere il nostro gioco più che altro e quindi niente noi dobbiamo giocare sempre per vincere sia dentro che fuori perché ci saranno i punti. Hai saltato la partita dell'andata tocca rimediare? Eh sì speriamo di far bene.